cobra messaggio urgente alla popolazione di superficie 23 maggio 2021 traduzione marina le forze di luce sono nel mezzo dell'offensiva principale di sgombero delle basi sotterranee chimera dal 1996 la chimera ha catturato molti pleiadiani e membri della resistenza li ha portati sottoterra e come ultima linea di difesa la chimera ora sta usando questi ostaggi in oscuri rituali di sacrificio poi cattura la loro essenza dell'anima e li costringe ad incarnarsi di nuovo in un altro corpo clonato che si trova come ostaggio in una base chimera ripetendo il processo ancora e ancora questo crea un'immensa quantità di sofferenza e il luce così generato viene poi raccolto e proiettato con la tecnologia scalare verso la popolazione di superficie questo è un momento molto difficile per le forze della resistenza e per la flotta pleiadiana e hanno bisogno dell'assistenza della popolazione di superficie chiedono al maggior numero possibile di operatori di luce di meditare il più spesso possibile e ogni volta che si sentono guidati affinché questa situazione si risolva il più più rapidamente e nel modo più indolore possibile traduzione marina la meditazione in questione verrà pubblicata dopo questo video e il link comunque riportato nelle didascalie a questo video grazie a tutti Grazie a tutti.